Graziano Viola, presidente del circolo della Lega con Salvini, ad Alcamo, un grande risultato per questa realtà politica che magari in Sicilia fino a qualche tempo fa veniva visto un po' così, di malocchio per alcune dichiarazioni in passato di quando si chiamava Lega Nord o Lega Padania. Effettivamente un po' di ragione ce l'hai, nel senso che la Lega Nord è ancora presente nella memoria delle persone, però ormai i tempi sono cambiati e si è visto anche ad Alcamo come comunque Lega Nord ormai è uscita di scena, è entrata soltanto Lega, per noi è Lega Sicilia perché sicuramente ad Alcamo è la prima volta che si fa avanti la Lega, è la prima volta che si portano con un comitato, che iniziano un percorso magari evolutivo ancora per il futuro. Vi aspettavate questo dato numerico alle recenti europee? Onestamente con un po' di presunzione sì, anzi io speravo anche in qualcosa di più perché credo proprio che l'Europa così com'è non vada e vada cambiata e pensavo molto anche negli altri popolazioni, nel senso degli altri paesi europei che dessero maggiore risalto a questa voglia di cambiare l'Europa. Così è stato a metà, però l'Europa comunque non può fare a meno di notare la volontà popolare che è aumentata rispetto alle ultime elezioni europee. C'è anche una leadership forte da parte di Salvini? Il dato è merito anche di Salvini per il grande lavoro che ha fatto a livello nazionale, come diceva il Presidente ormai la musica è cambiata, la Lega è un partito nazionale non più territoriale e Salvini con i suoi atti, le sue cose che ha fatto è riuscito a raccogliere un consenso altissimo in tutta l'Italia come avete visto. A livello nazionale mi sa che la Lega nel governo con questo risultato rafforza la leadership? Sì, però da quello che lui dice non è cambiato niente, diciamo lascia sempre ai 5 Stelle il primato perché l'elezione nazionale è una cosa, l'elezione europea è un'altra cosa. Per quanto riguarda invece Alcavo, avete chiesto qualche volta collaborazione all'amministrazione Surdi, avete chiesto qualche incontro, insomma c'è un dialogo oppure no? In maniera formale almeno da parte mia direttamente no, nonostante avesse sempre voluto farlo, un piccolo incontro anche così dimostrativo di qualcosa di buono, di positivo che potevamo fare, ma poi alla fine non è nato mai nulla e siamo rimasti sempre sulle nostre posizioni, noi come giovane gruppo emergente e nascente ad Alcavo e loro come forza amministrativa. Ma nessun avvicinamento proprio stretto oppure anche un semplice dialogo, no. Ma nessun avvicinamento proprio stretto oppure anche un semplice dialogo, non è vero, 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 non è vero. Grazie a tutti.